...un bronzo che si trova l'imprega per lui che rappresenta l'imperatore Costantino probabilmente potesse appartenere appunto al famoso bambino, cioè non è certo, ma è un'ipotesi. Allora, dove ci troviamo? Ho una piccola pianta con il modello che possiamo continuare a seguire il percorso e il giro, i vigli azzurri ci permettono appunto di vedere quello che sarà il nostro percorso. Noi siamo, abbiamo percorso la barreria, siamo entrati all'interno della mussare, sono basati di fianco al peristiglio che si chiamava risattamente in alto e in fondo e ora ci troviamo l'ambiente con l'amica 5. Questo ambiente era collegato direttamente al peristiglio, in un camionolo, e una serie di attitudine. La parete via di voi dovete distruggerla e, ovviamente con l'immaginazione, e pensare che qui c'era un grande colonnato. L'ambiente retrostante era un ambiente unico, quindi la parete trasversale non uscela e la parete trasversale non uscela, quindi la parete trasversale non uscela. che non uscela, quindi la parete trasversale non uscela, quindi la parete trasversale non uscela. Grazie.